ciao a tutti benvenuti alla rassegna stampa di scazza moderato oggi nuova puntata di chiacchiere fra i migrati abbiamo con noi un amico italiano che come me vive all'estero da tanti anni e ci racconterà un po della sua esperienza è qui con noi giovanni che vi anche se adesso in italia vive a Hong Kong ciao Giovanni buonasera a tutti buongiorno a tutti per me sono le 6 per lui sono le 8 invece che chiacchiere fra i migrati facciamo aperitivo fra i migrati perché io ho detto Giovanni facciamoci una birretta io ho colto la palla al balzo ma lui ha esagerato come sempre sì perché dovete sapere che non avevo la birra in frigo Giovanni mi dispiace t'ho fregato t'ho detto prendiamo la birra io mi sono fatto un coca e rum perché a Dubai giustamente io ormai sono anziano dentro non vado su super alcolici birra che però è molto buona molto buona non so se si possono fare vai fai pubblicità vai fai la pubblicità che birra stai bevendo allora guarda questa qui per me questa è una lager della madonna del birrificio leder che è un birrificio artigianale che si trova sul lago di ledro vicino al lago di garda ok quindi di gata è andato quest'anno perché quest'estate ho fatto le vacanze in Italy se il signor se il signor leder volesse anche mandarci dei soldi per questa pubblicità noi li accettiamo giusto io accetto soldi dal signor esatto esatto e secondo me potremmo anche creare un collegamento perché forse in russia serve di tutto compreso ascolta allora comunque non siamo qui a parlare della birra leder ma siamo qui a parlare di Hong Kong allora io voglio fare quanti anni hai vissuto a Hong Kong allora ci vivo da dieci anni sono momentanamente in Italia ci vivo dal 2012 ma prima di essere arrivato a Hong Kong ero già in Asia perché ho vissuto quattro anni e mezzo a Shanghai quindi faccio 15 anni a gennaio ok fondamentalmente in Asia e adesso sono in Italia per le ferie e perché la mia azienda sta facendo delle riorganizzazioni interne quindi potresti cambiare forse sì forse no ma questo qui adesso noi parleremo un po' della vita quindi a Hong Kong quello che sono dieci anni sono un bel po' esatto dieci anni sono un bel po' di tempo prima domanda stupida Hong Kong a casa loro come lo pronunciano come lo come lo pronunciamo noi o in un altro modo allora loro lo pronunciano in cantonese Shanggang ah ecco già non lo so Shanggang è in mandarino credo perché io il cinese purtroppo lo parlavo quando era a Shanghai un pochino e poi l'ho dismesso perché a Hong Kong c'è il cantonese che è una lingua molto più difficile è il cinese tradizionale adesso caso ci saranno un sacco di persone esperti sinologhi che mi che mi faranno la punta però eh il cantonese è molto più difficile del del mandarino che è il cinese un po' semplicato però a Hong Kong per il fatto che io parlo un po' l'inglese anzi che parlo fluentemente l'inglese mi sono adagiato sull'inglese essendo una città che fino al novantasette era di matrice indrese era una è stata una colonia inglese per cento anni eh con l'inglese parlavi anche col taxi driver cosa che a Shanghai non non era possibile quindi io l'ho un po' perso però Hong Kong si dice che vuol dire porto profumato Shanggang ok interessante quindi in mandarino in cinese quindi a Hong Kong usano tutto il deodorante nessuno sa la scella pezzata Hong Kong vietatissima la scella pezzata che tra l'altro è impossibile non avercela perché c'è un'umidità che è abbastanza elevata non c'è il caldo di Dubai ma si raggiungono delle vette abbastanza allora guarda ti dico una cosa questa cosa qui in effetti io l'avevo notata già quando abitavo a Roma che avevo un sacco lavoravo in pieno centro quindi avevo clienti di tutte le nazionalità e notavo come la gente che arrivava da Hong Kong li riconoscevi al volo sono diversi dagli altri perché parlano un inglese proprio pom ah no certo ragazzi benissimo poi sono vestiti molto molto l'occidentale hanno un modo di fare proprio molto occidentale per quello che è stata l'esperienza quantomeno sicuro se vogliamo andare a gamba tese sulla Hong Kong moderna rispetto a quello che era anche solo fino al 2015 era per me una io non ho visitato tutto il mondo ovviamente ma la mia esperienza era per me una delle migliori città che abbia mai visto vissuto e visitato perché era un mix tra oriente occidente un'efficienza clamorosa ogni sindaco di ogni città secondo me dovrebbe fare una capatina da Hong Kong per capire come otto milioni di abitanti riescono a stare in un'isoletta diciamo in un'arcipelago così piccolo perché Hong Kong ha varie isole e più a una parte legata alla terraferma cioè alla mella in cina ma un veramente un una serie di di strade di percorsi di sotterranee clamorose è vero che c'è una tassazione molto bassa ed è un paradiso fiscale ma la sanità pubblica funziona i trasporti pubblici non costano veramente nulla cioè la metropolitana un euro più o meno e con un euro un euro e mezzo vai quasi ovunque e i taxi con cinque euro fai una buona discreta una discreta distanza certo non dal centro all'aeroporto però puoi comunque spostarti ecco ci sono anche adesso nonostante il lockdown nonostante la crisi che c'è stata stanno investendo l'unico dispiacere è che la matrice cinese sta prendendo il sopravvento ecco è un po' meno internazionale rispetto a a quando c'erano i non dogmatici con U Jintao per fare la differenza con Xi Jinping e molte persone se ne sono andate per a causa covid a causa delle restrizioni legate al covid e anche per stati belli posti poi ci sono state allora ci sono state se ricordo anche delle diciamo rivolte di piazza manifestazioni come vogliamo chiamarle allora è da quasi cinque sei anni che ci sono queste rivolte sono partiti se non ricordo male tra il 2016 con la rivolta degli ombrelli per poi culminare nel 2019 a giugno con una tutte cose pacifiche o comunque i toni all'inizio erano pacifici sono stati secondo me anche aizzati da vari enti anche paragovernativi parlavano appunto di interferenze della PLA che la che la polizia diciamo cinese però ci sono state manifestazioni che hanno coinvolto due milioni di abitanti sugli otto totali a giugno un fiume di gente un fiume di gente che protestava contro la national law che è questa legge che prevede che chiunque al mondo tra l'altro anche tu Jimmy se viene a trovarmi in aeroporto e ti comporti non secondo i canoni di questa legge puoi essere processato in Cina quindi a Pechino volendo quindi puoi essere tra virgolette stradato nella mella in China questo è stato considerato un affronto per una città che ha ancora il suffraggio universale che aveva la libertà di stampa che quindi è stata anche in seguito mozzata molti legali molti avvocati sono scesi in piazza molti studi molte persone da qui è partito il covid quindi giugno 2019 escalation con anche rivolte auto cioè mia moglie è andata una mattina a lavorare c'erano delle auto ancora incendiate i san pietrini delle strade di Velti per costruire delle barriere studenti contro poliziotti cioè è stato un periodo incredibile tra l'altro nella loro precisione e compostezza e anche decoro a i manifestanti spiegavano e avvertivano il resto della cittadinanza dove avrebbero fatto le manifestazioni tu avevi un'app dove vedevi che dove si sarebbe spostato il corteo per se non volevi partecipare per centri commerciali chiusi poi c'erano i ristoranti che avevano messo dei colori c'erano dei ristoranti che aiutavano anche i manifestanti quindi c'erano dei ristoranti con dei colori che aiutavano i manifestanti più o meno ufficiosamente quindi che davano ristoro rifugio cioè è stato un periodo incredibile con l'avvento del covid hanno avuto la scusa per mettere secondo legge il divieto di fare aggregazioni sopra le quattro unità quindi se qualcuno si aggregava sopra le quattro unità durante il covid potevano essere tutti tra virgolette arrestati o comunque portati in questura questionati sì sì certo quindi questa è stata una scusa il covid anche per poter controllare ulteriormente mettere le zampe un po più dentro la città com'è la vita di un italiano a Hong Kong nel senso che allora a Dubai è una città comunque super multiraziale perché siamo l'ottanta per cento di immigrati anzi forse anche l'85 per cento invece a Hong Kong immagino che sia la stragrande maggioranza siano locals quindi tu comunque hai amici ti sarai fatto tutta la tua cricca allora la comunità italiana non è enorme come al solito perché noi non siamo tantissimi sono più altri americani o francesi però la comunità italiana è ben radicata ci sono profili più senior rispetto a Shanghai ho notato questa differenza quindi è una città più matura però è una città con una vivibilità almeno pre covid diciamo così ancora non si è ripresa clamorosa cioè cara allora è la città con gli affitti più alti al mondo ci sono allora hanno battuto una villa o un appartamento al peak che è la zona del del cucuzzolo del di Hong Kong da cui si vede tutta la città è della zona più ricca praticamente la zona più ricca al mondo come real estate non vorrei dire una stupidata ma 250 mila euro al metro quadro per vendere un appartamento al metro quadro qualche anno fa qualche anno fa è andata è stata battuta è stata battuta questa cifra quindi dal punto di vista dell'entry level cioè essere un residente diciamo ad Hong Kong se non hai un'azienda alle spalle che almeno si prende il carico di pagarti l'affitto e le utenze ma soprattutto l'affitto hai una barriera d'ingresso abbastanza elevata a meno che tu non sei disposto a vivere in zone più o meno disagiate perché ci sono anche le persone diciamo così anche perché tanto voglio dire in ogni città la città la mandano avanti i lavoratori quelli e lavoratori quelli li guadagnano poco e quindi deve essere deve esserci l'alloggio per quei portafogli là c'è gente che abita in due metri quadri in due metri quadri bagno in comune una mensola un letto e forse una radio un televisore ci sono tante persone anche da noi a dubai ci sono tutti quelli che magari si prendono tipo le le stanze si prende un appartamento con una stanza sola poi fanno le partizioni con le tende e magari ci ci vivono neanche tre persone ma tre coppie pagano nulla però però è comunque è difficile perché devi fare i turni per andare in bagno devi fare i turni per usare la cucina se sei una coppia la sera l'intimità cosa vuoi fare c'hai le tende anche solo un sospiro lo sentono quelli di fianco a te no insomma sì no 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 è così è così loro sono molto gli orkonghini sono molto orgogliosi grazie per colpa di xi jinping secondo me è aumentata la maretta hong kong cina perché xi jinping da quello da quello che può tutto capire vede hong kong come il capitalismo no la l'anima capitalistica della della greater china la greater china è formata da macao e hong kong e lui di ovviamente i cinesi continuano a dichiarare taiwana anche facente parte della people's republic of china considerando che invece taiwan è la republic of china ero sì cioè entrambi dicono di essere la repubblica la vera cina la vera cina ma gli stati uniti negli anni settanta di riconobbero la la beijin e non taipei ed è lì nato che sta nascendo e che continua a nascere l'equivoco siccome che non è riconosciuto internazionalmente ci sono pochissimi paesi che riconoscono taiwan al come stato sovrano insomma e hong kong aveva una vita della madonna cioè era molto più vibrante fino al 2015 cioè ogni sera volendo potevi bighellonare ecco era un po il paese dei balocchi facendo il confronto con shanghai shanghai aveva secondo me dal punto di vista dei locali notturni cosa che adesso non mi interesso più perché sono a g aveva più più era più sofisticato paradossalmente hong kong essendo che era stato il bordello diciamo così negli anni settanta guerra in etnanger era più ruspante però città bellissima città secondo me che nessuno conosce veramente perché tutti quelli che mi che hanno lo stereotipo di hong kong vedono no quelle foto dove ci sono i palazzi e ci sono tutte quelle quelle insegne uno sopra l'altro invece hong kong per merito degli inglesi ha un 70 per cento verde e ha delle spiagge bellissime bellissime per essere una metropoli non bellissime relativamente alle maldive però se la gioca corriccione per fare un un esempio che tu conosci bene ecco ecco una peculiarità di hong kong bellissima due te ne voglio dire due la parte diciamo così organizzativa quando devi prendere un aereo puoi fare il check in in città in due parti della città a caolung che la parte centrale a tst che la parte centrale sulla mail in china e a central che è dall'ifc quindi una delle torri più famose rinomate l'ifc è dove si è buttato batman di christian bale per fare lo skyhook per fare la scena dell'elicottero che lo tira su eccetera l'aereo esatto no è un aereo è un aereo è ragione l'aereo esatto lo skyhook lui si fa prendere su quando rapisce ok lì lì sotto si arriva la metropolitana e arriva anche il train l'express train e lì puoi fare il check in anche a dieci ore dalla partenza quindi tu porti le valigie ti danno il biglietto ti giri la città se sei un turista e poi con estrema comodità prendi questo trenino che fa tre fermate ed entra dentro l'aeroporto ok l'ultima cosa è la junk boat cioè tu puoi andare al molo 9 sempre di central puoi organizzarlo con gli amici e costa ti costa 30 40 euro a testa a dir tanto e organizzi di noleggiare una barca su due piani con anche quindi tutto l'impianto stereo e un equipaggio che ti porta nelle calette di hong kong che difficilmente riuscireste a raggiungere o con i mezzi o a piedi e ci si va di solito con una ventina di amici e stai tutto il giorno sulla barca quindi puoi portarti il cibo ti fai la giornata ti porti il cibo ascolti la musica ti fai il bagno esatto questo e ci puoi anche andare da solo perché ci sono delle open junk boat dove gente che casomai appena arrivato si può tra virgolette unire un po di networking conosci un po di gente questo anche da noi si fanno un sacco le feste in barco almeno tre volte all'anno facciamo una festa in barca con gli amici esatto 40 50 euro c'è la barca per quattro ore più o meno poi ognuno porta un po di alcolici un po di stuzzichini una cavallata un'altra attacchi un cellulare al coso butti sulla musica vai sì sì bellissimo è una città quindi dove diciamo che il com'è il traffico nel senso la maggior parte della gente usa i mezzi pubblici o la macchina perché per esempio io quando sono andato a a tokyo in giappone sono rimasto stravolto che mi immaginavo un traffico dalla madonna in realtà usano tutti la metro le strade sono non ti dico deserte ma non c'è quello che ti aspetteresti da una metropoli cioè vai a nuova deli o vieni a dubai alle 6 andando verso vieni a reggio miglia alle 8 di mattina non devi scomodare le metropoli vieni a res come dico io alle 8 di mattina è un unico un'unica fila fino a che non arrivi al lavoro no allora hong kong ovviamente non sarà efficiente cioè non conosco tokyo così bene ma non è efficiente credo come tokyo però perché è molto allora innanzitutto è montuosissima ci sono un sacco di colline cioè arrivi anche a 500 metri sopra il livello del mare le collinette di hong kong però è estremamente efficiente ed è una delle poche città dove ho sentito gente molto viziata che arrivava da shanghai e che si spostava solo col taxi col fatto che non è così grande come shanghai tra l'altro ok questo che accettava di prendere la metropolitana quindi i mezzi pubblici vengono effettivamente considerati un plus anche da persone diciamo così spoiled che di solito le vedevi utilizzare solo i taxi quindi questo è chapeau perché secondo me la vera città efficiente non è la città che ti fa andare ovunque in macchina ma è la città che ti fa andare ovunque col mezzo pubblico grandi 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 metropolitane hanno questo livello di efficienza e non sono sconvolto dalla efficienza di quella città cioè tu quando sei per la cosa che io notai mi ricordo ancora ci sono andato nel 2013 non ero ancora venuto a dubai ok il silenzio non c'era il rumore del traffico stai parlando credo che se non sbaglio tokyo la più grande metropolitana quello del mondo in totale 38 milioni di abitanti 38 milioni di abitanti e più della metà dell'italia solo tokyo io ero io ero in pieno centro e tranquillo poi vai di sotto guardi guardi la mappa della metropolitana insalata cioè è l'emilia romagna la mappa della metropolitana se volessero fare qualcosa in emilia io allora io ho fatto erasmus nella nella best normandia in mandia a con che se se ti ricordi che c'era il film benvenuti al nord no che poi l'hanno copiato qua in italia con benvenuti al sud perché benvenuti al nord il nord della francia è la normale più truppi più io ero nella zona povera c'è c'è una c'è una grande tradizione universitaria perché comunque qua la vana 3 mi sa che devo fare un altro giro io ho finito la birra da mo però sono un dilettante rispetto a chi mi va di cuba libre comunque dicevo io nel minuto hai detto bene cuba libero perché c'era anche il lime cioè che mi faccio mancare il tuo c'è tu eri uno che faceva andare le gomme cioè locali notturni vita io c'è lo dico ai presenti che ci ascoltano ci vedono e mi rifacevo agli sconti agli ingressi alle liste di gimme è quando il fornitore ufficiale di di pass per riuscire a saltare anche solo per fare un aperitivo mi ricordo una sera che andammo gratis allo snoopy perché a quell'ora c'era da mangiare piadina volontà e il grande ivan che diceva gratis apre tutte le porte e si fondava in locali dove non sarebbe mai entrato se avesse dovuto pagare arrivavo io ragazzi mi raccomando è due e mezza tiriamo fuori gli antipastini salati tutto quanto venite che vi faccio entrare mi ricordo una serata della madonna all'ecos non so che mai fatta entrare ero con un mio amico me lo ricordo ancora che questo qua me lo ammene ancora diciamo quella serata lì ci siamo divertiti figo cioè mi ricordo ancora una serata all'ecos secondo me era all'ecos non voglio dire una roba può essere collaborato anche l'ecos ho lavorato anche lì e beh fate tutti quindi non mi è mancato uno il suo nome l'ho fatto villa tutti ce li ho no dicevo in francia nel 99 ero in west normandia vado a rouen città di 90 mila anime due linee della metropolitana 1999 funzionanti e non che li stavano costruendo che andavano sotterranei e co stava creando la metropolitana diciamo sopraelevata per collegare i vari campus io dico ma perché in emilia romagna una delle regioni più ricche del mondo parma reggio modena e bologna non fanno una cosa simile una rare alla francese per collegare casomai capoluoghi e poi in verticale da nord a sud cioè a reggio emilia è veramente una cosa assurda come traffico ma assurda c'è proprio respiro assurda è assurda è assurda reggio devo dirti è probabilmente un dei post dell'emilia romagna che conosco di meno vabbè certo non è famosissimo non è come parma non è come bologna lo dico da reggiano parma ci sono stato più spesso bologna ovviamente vabbè ci ho abitato ai tempi dell'università va bene comunque allora insomma vogliamo consigliamo hong kong per il turismo sì perché no soprattutto perché come investimenti non hanno calato e si riprenderà sicuramente adesso è una aperto come turismo sì è una città da vedere anche per il fatto che si può anche andare al mare tra virgolette particolare questa cosa va bene giovanni grazie mille per la chiaccarata è stata veramente una chiaccarata interessante a me è piaciuto un casino quello quello che ci hai raccontato abbiamo parlato di un po di tutto facciamo un bel saluto agli ascoltatori ciao ragazzi e forza gimme a questo punto forza scasso moderato se poi cambi città magari ci rivediamo fra un anno e ci racconterai la tua esperienza in un'altra città del mondo vedremo un pochino cosa cosa vale da raccontarci ve lo so dire a breve tra l'altro te lo so dire a breve va bene ciao 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 a tutti ciao ciao ciao